In WeBank abbiamo integrato il modulo di campaign management di SaaS al nostro DVH aziendale. DVH aziendale che contiene tutte le informazioni anagrafiche dei nostri clienti, ma anche tutte le informazioni relative alla loro operatività. Questo ci ha permesso di implementare delle campagne di marketing, ma anche informative, in modalità rolling. Quindi in pratica ogni giorno il motore di SaaS del campaign management seleziona un target ed invia delle comunicazioni ai clienti. In una seconda fase, che è quella che stiamo implementando in questo momento, al modulo di digital marketing che invia sostanzialmente la mail al cliente, abbiamo implementato dei nuovi canali, delle nuove possibilità di contatto. Quindi l'SMS, piuttosto che la mail pack, piuttosto che la chiamata da parte dell'operatore di call center. I vantaggi principali che noi abbiamo avuto con l'implementazione di questo progetto è la sensibile riduzione di effort da parte del gruppo di CRM nella gestione delle campagne. Siamo passati da creare dei target, una tantum, a fare degli sviluppi sostanzialmente one shot della campagna e poi al semplice monitoraggio quotidiano della stessa. L'altro aspetto è quello che abbiamo centralizzato l'informazione di contatto di tutte le varie modalità. Quindi tutti i contatti dei nostri clienti risiedono e risiederanno con la multicanalità di cui abbiamo parlato prima in un unico punto che è la contact history, la response history del campaign management di SAS.